Ciao a tutti da Azzolatore, grandissima sorpresa da Romics 2016, il grandissimo Luigi Albertelli. Io, e le grandi emozioni sono emozionato, le vibrazioni con le sue canzoni, Daedan 3, Goldrake, Ruforobot, Zingara dei Mazzanini, Non voglio mica la luna. Sono veramente tante, sono troppe. Sono bellissime, bellissime. E a delle tutte quante. E sono ancora vivo, è importante. Sono canzoni immortali e veramente grandissime emozioni che taglia a tutti quanti, è un grandissimo piacere. Vogliamo dare un saluto a tutti i tuoi fans? Come no, ciao a tutti, grazie. Ecco, salutiamoci a tutti i fans di tutte le serie, Goldrake, Daedan 3, che possiamo dire? E più ne ha più ne metto. A domani, al prossimo, alla prossima canzone. Grazie, grazie Luigi, ciao a tutti. Ciao.